Voi questa sera la Italian Jazz All Stars Bress Samba e il compito di presentare i particolari partecipanti a questa serata spetta a colui che ha reso l'Umbria notissima a livello internazionale con Umbria Jazz, presidente del Jazz Club Perugia, Carlo Pagnotta. Questa sera abbiamo un grosso gruppo italiano, non è vero che lo presenterò perché lo farò presentare da Cicci Santucci che tra di noi è di casa. Grazie. Il Jazz Club Perugia ha bisogno di soci per andare avanti nella sua attività. Noi ai seminari e laboratori preferiamo i concerti, preferiamo la musica. È la nostra politica. Grazie. Signori buonasera. Mi limito solo a presentare i componenti del Brass Group. Alla batteria Affonso Vieira, direttamente dal Brasile. al pianoforte Antonello Vannucchi, al basso elettrico Giorgio Rosciglione, al sax tenore Sal Genovese, al trombone Marco Pellacani e alle percussioni Wilfried Coppello. Il primo pezzo che seguiremo si chiama Vera Cruz. Salute spento una Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.